Oggi parliamo dei verbi irregolari. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Nella lingua italiana alcuni verbi non seguono i pattern della coniugazione che abbiamo visto nelle prime puntate. Questi verbi sono chiamati irregolari. Oggi vediamo tre verbi irregolari molto usati. Andare, bere e dare. Cominciamo con andare. Ti faccio un esempio e tu devi continuare la frase. Io vado a casa. Tu Tu vai a casa. Lei Lei va a casa. Noi Ok, ora vediamo il verbo bere. Ti faccio un esempio e tu devi continuare. Io bevo un caffè. Tu Tu bevi un caffè. Lui Lui beve un caffè. Noi 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 beviamo un caffè. Voi Voi bevete un caffè. Loro Loro bevono un caffè. Ok, ora vediamo il verbo dare. Ti faccio un esempio e tu devi continuare. Io do un'opinione. Tu 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 dai un'opinione. Lui 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 dà un'opinione. Noi Noi diamo un'opinione. Voi 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 date un'opinione. Loro Loro danno un'opinione. Molto bene. Ti ricordo che in italiano puoi creare la forma negativa mettendo la parola non prima del verbo e la forma interrogativa attraverso l'intonazione della frase. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Io ti ricordo che se vuoi supportare questo podcast puoi lasciare una valutazione positiva nella piattaforma o nella app che usi per ascoltarlo. Puoi seguirmi su Facebook o puoi prenotare una lezione con me. Trovi il link in descrizione. Noi ci sentiamo domani. Ciao Ciao